Saranno gli alberi che salveranno il mondo? A questa domanda cerca di dare una risposta il progetto degli studenti del secondo anno dell'Istituto Italiano di Fotografia, che esporranno le proprie opere dal 5 al 30 aprile allo spazio arte Carlo Fariola Bustarsizio nell'ambito dell'undicesima edizione del Festival Fotografico Europeo. Questi giovani propongono, attraverso i loro scatti, una nuova riflessione sul rapporto uomo-natura, analizzando in particolare lo stato del paesaggio degli alberi. E lo fanno mediante differenti piani visivi ed interpretativi. Questo è un nuovo ed importante tassello per rivolgere uno sguardo al nostro pianeta.